Salve da Acropalati, oggi 10 maggio 2020 nel festeggiare la festa delle mamme, ho voluto preparare questo piatto o meglio una vellutata di zucca con patate e carote. Si guarnisce alla fine con del prezzemolo, delle scadiette di parmigiano reggiano, un filo d'olio extraggio d'oliva, un po' di noce e moscata e alè. Anche ci sono conviccati dentro di rametti di rosmarino per esaltare ancora di più il gusto. Vuoi tutti una buona giornata ad Acropalati e buona festa delle mamme che sono sempre una grande risorsa.